Per colazione oggi vi portiamo in Sicilia Quando c'è chi una ricetta solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Bene, ciao ragazzi e benvenuti qui nella nostra cucina reale Oggi una ricetta tipica siciliana per una colazione dolce, buona e... Araviola carigotta Araviola carigotta Che cos'è, che cos'è? La raviola con la ricotta Cari amici miei, se non siete di Catania voi non potete sapere che varietà di pezzi per la colazione ci sono nei nostri bar Motivo in più per venire e motivo in più per andare a sbirciare la playlist di due cuore e una cappa Dove troverete tantissime di queste prelibatezze da bar Una di queste, una delle più amate dai catanesi è la raviola con la ricotta Ce ne sono due varianti, fritta e al forno Adesso la facciamo al forno Impratichitevi e poi tra qualche video faremo anche quella fritta Basta parlare, andiamola a preparare Ed ecco gli ingredienti per le nostre buonissime raviole di ricotta 200 grammi, sino a 250 potete metterla Quindi avete una piccola variazione sul grado di dolcezza delle raviole Quindi 200-250 grammi di zucchero Un uovo intero ci servirà per lucidare le nostre raviole Un cucchiaio di essenza di vaniglia Un pizzico di sale Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare Iniziamo subito All'interno di una ciotola versiamo i 400 grammi di ricotta Il cucchiaio di essenza di vaniglia Il cucchiaino di cannella Il pizzichino di sale Con una frusta elettrica lavoriamo il composto Dopo aver lavorato a lungo il composto Amalgamiamo anche ciò che si è depositato sui bordi della ciotola Distendiamo la nostra sfoglia E dividiamola In sei quadrati Inseriamo In ciascun quadrato Una buona quantità di ricotta A questo punto Le raviole vanno chiuse Semplicemente Adagiando i bordi Così A triangolino Quindi una volta chiuse Rifilo Per sigillare Ulteriormente i bordi Adagiate le raviole su una leccarda Sbattiamo l'uovo E spennelliamolo Sulla superficie dei dolci E mettiamo in forno A 200 gradi Per 20 minuti Forno combinato E preriscaldato Nella parte medio-bassa Stiamo sempre attenti Quindi un occhio sempre al forno Quando saranno dorate E sfogliate Saranno pronte Andiamo in forno Ed ecco pronte Le nostre buonissime raviole Le dispongo sul tagliere Per farle raffreddare Una bella spolverizzata Di zucchero a velo Et voilà La magia è pronta da gustare Mi raccomando Mangiatele tiepide Non le fate raffreddare del tutto Tiepide è il loro momento migliore Per essere gustate Bene Spero che questa ricetta Facile facile Tipica tipica E buona buona Vi piaccia Io vi lascio le foto E noi ci vediamo subito dopo Ciao Ciao Avete visto com'è semplice farla La dovete fare Per favore Io vi scongiuro Perché veramente Partirà la giornata In modo diverso Con questa colazione Quindi provatela È troppo buona Mi raccomando Questo non si transige La ricotta Deve essere di pecora Non ci mettete Ricotta vaccina Perché no 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 In questo dolce Per essere tipicamente Nostro Deve essere con la ricotta Di pecora Che ha un tipico Sapore Quindi Sbizzarritevi A creare le vostre Raviole E poi diteci Cosa ne pensate Lasciateci tanti commenti Qua sotto Se il video vi è piaciuto Un bel pollice in su E una grandissima Condivisione Dedicato a tutti gli amici Che se ne sono andati Da Catania Per diversificati motivi E che con questo video Speriamo Possano trovare Un piccolo assaggio Della loro città Bene Dopo la lacrimuccia Mi raccomando Questo video È dedicato a voi Bene Condividetelo Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo sempre qua Per un nuovo video Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti